Qui in tre settimane, in reali 15 giorni, abbiamo dovuto attraversare la città, rapidamente confrontare e dire quali erano le nostre idee, le nostre idee innovative. Questo è chiaramente stato un compito molto arduo, ma evidentemente una parte della città ha dato credito, ha dato seguito a questo nostro progetto e noi accompagneremo e scaveremo ancora di più assieme alla società fiorentina per individuare meglio le soluzioni assieme e sicuramente siamo convinti avremo prossimi, nuovi e migliori risultati. Lei ha fatto anche un po' di polemica con il vice sindaco Nardella per quanto riguarda i confronti tra i candidati. Sì, in effetti è curioso che Nardella che aveva detto di volere le primarie, poi si sia sfilato, negato o comunque abbia declinato una serie di incontri proposti direttamente dall'associazione, la società civile, dai circoli del proprio partito. Abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, ringrazio tutte le persone che sono qui, è stata veramente una cosa entusiasmante. Abbiamo fatto, credo, la prima campagna elettorale a Firenze sicuramente, ma credo anche fuori Firenze basata su questa visione della felicità pubblica, quindi insomma una cosa di assoluta novità. Quindi sono molto contento di quello che sono stati questi 20 giorni di campagna elettorale. Se avessimo avuto ovviamente più tempo sicuramente le cose sarebbero state meglio recepite e meglio comunicate ai fiorentini. Comunque insomma il dato è questo, ho già parlato con Dario Nardella, mi sono complimentato con lui per questo suo successo e quindi a questo punto è stato giusto fare queste primarie. Abbiamo dato un'opportunità di discussione ai fiorentini, di approfondimento dei temi della città e a questo punto insomma siamo tutti uniti, abbiamo messo tutti uniti per il bene dei cittadini di Fiorentini. Che ne sarà del progetto Felicità Pubblica? Felicità Pubblica va avanti indipendentemente, questo diciamo è un primo passo. Chiaramente collaboreremo, è inevitabile all'interno dello stesso partito e senz'altro ci porremo insieme nella sfida per le prossime amministrative.